Solo la Dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Il centro storico inizia a fare acqua ad ogni angolo, il cuore antico della città dopo l'emergenza idrica della scorsa settimana deve fare i conti con le reti Colabrodo delle Fogne. L'ultima segnalazione giunge da Piazza Amendola, a pochi metri dall'ex Dogana, come vediamo dalle immagini, un fazzoletto di marciapiedi in pavè si è improvvisamente squarciato, versandoli qua mi per strada. La falla è situata a pochi metri da abitazioni e attività commerciali. I cittadini chiedono l'intervento urgente dai tecnici del comune perché il cedimento potrebbe dare origine, come è verificatosi di recente, in altre zone di Avellino, non per ultima via Speranza, a una più ampia e pericolosa vorragine. Sarebbe un'ulteriore tegola sulla testa del centro storico, mai così al buio, e prigioniero di opere incompiute. Quella della rete Pognaria è poi una piaga da sempre aperta, una ferita mai ricucita per Avellino che paga probabilmente l'assenza di una mappa dei sottoservizi. Quando si parla di sottosuolo, si scava nel buio. Con la pioggia di questi giorni i tombini saltano come birilli nel tatto di strada che va da Corso Umberto a Via Tedesco per non parlare di piano d'ardine dove gli allagamenti sono all'ordine del giorno per il puntuale intasamento delle caditoie. In serata come se non bastasse una chiazza d'olio sull'asfalto della strada, ha spinto la Polizia Municipale a chiudere a traffico via rifugio. Insomma, nel centro storico piove sul bagnato e mai come in questi ultimi tempi nulla fila liscio a parte l'olio finito per strada.